Mi ha chiesto di intervenire il consigliere Violi nella facoltà. Grazie Presidente. Se non vorrei frenare i facili entusiasmi, abbiamo fatto sicuramente un buon lavoro, questo PDL rappresenta un buon lavoro, ci siamo seduti tutti attorno al tavolo e non poteva essere altrimenti, viste le problematiche legate al momento economico e all'impresa lombarda. Certo, poi bisognerà vedere i provvedimenti attuativi in capo all'esecutivo. Ricordo che anche la legge 1-2007 era una legge all'avanguardia, una legge ottima che non solo per un momento in crisi economica non ha funzionato ma perché è stata anche a dire della stessa giunta e degli uffici della giunta in larga parte inapplicata. Quindi va bene l'entusiasmo, va bene gli strumenti, va bene tutto. Cerchiamo poi di tornare un attimo con i piedi per terra e di dire alle imprese quello che siamo in grado di fornirli oggi. Noi oggi siamo in grado di fornire un progetto di legge che dà delle indicazioni chiare e precise a una giunta che poi dovrà essere in grado di riordinare un sistema di agevolazioni da una parte e controlli dall'altra e di burocrazia dall'altra che davvero sia in grado di incentivare e di incoraggiare gli imprenditori a continuare a fare imprese sul nostro territorio. Questo per noi è fondamentale. È fondamentale come è stato fondamentale nel processo di costruzione, di struttura di questa legge. fare riferimento alla liquidità. Abbiamo sentito parlare di innovazione, di futuro, di attrattività, di competitività. Vorrei riportare qua un ragionamento legato anche alla liquidità e a quello che soffre l'impresa Lombarda oggi. Quindi non solo una visione futuristica e futuribile del sistema economico-industriale Lombardo ma anche un occhio a quello che succede oggi. Oggi succede che ormai da anni, vista la stretta creditizia delle banche, le imprese, anche quelle sane, anche quelle che hanno ordinativi e sono in grado di fatturare, troppo spesso si trovano di fronte a grosse difficoltà finanziarie e non sono in grado di reperire forniture per rispondere alle richieste di ordinativo. Quindi per noi è stato importante rimettere al centro anche la parola liquidità perché davvero è importante e sappiamo che attraverso i fondi rotativi di garanzia si era provato negli anni a sviluppare e a generare questi numerosi investimenti. Sappiamo oltresì che Filombarda deve impegnarsi maggiormente in accordi quadro con le banche affinché le aziende possano poi davvero accedere al tanto desiderato credito. Perché se poi parliamo con le imprese e molte sono venute da noi in audizione abbiamo anche sentito che quando si va in banca e si parla di Filombarda tante volte le banche non hanno interesse a utilizzare i fondi rotativi per via di accordi quadro presi gli anni precedenti che non rispondono più a indicazioni e interessi di mercato e quindi le banche non hanno interesse ad erogare credito alle imprese. E dovrebbe essere il punto centrale del nostro progetto di legge quindi torniamo a dare credito alle imprese, credito non solo in termini di fiducia ma anche in termini di erogazioni finanziarie che possono risollevare l'economia lombarda. Abbiamo riportato nelle finalità e negli obiettivi il concetto di internazionalizzazione perché sappiamo che la maggior parte delle imprese lombarde che resistono oggi e che sono in grado di dare occupazione ed essere competitive sul mercato hanno dal 50 all'80% di fatturato che è destinato all'estero. Sappiamo benissimo che i consumi interni sono ridotti praticamente a zero e chi sopravvive oggi o chi oggi addirittura cresce è chi ha fatto un ragionamento più ampio e ha guardato i mercati internazionali. La regione Lombardia di questo non si deve e non si può dimenticare perché abbiamo dei prodotti, abbiamo delle professionalità altamente competitive e dobbiamo essere in grado di presentarle al meglio sui mercati internazionali. Questo può avere anche un ritorno di interesse poi sullo stesso territorio perché nel momento in cui io vado all'estero e do dei prodotti e do dei servizi competitivi invito allo stesso tempo anche le aziende, i miei clienti, i miei partner a venire a trovarmi sul territorio e a vedere quali sono le realtà che davvero il territorio è in grado di offrire a loro in termini di investimenti in Lombardia. Sinceramente siamo soddisfatti anche sul passaggio relativo alla burocrazia. Noi avevamo chiesto una maggiore attenzione sui controlli, la sburocratizzazione permetterà anche un miglioramento, un efficientamento dei controlli, un sistema integrato dei controlli in diversi modi. Quindi abbiamo un fascicolo elettronico di impresa che permetterà un accesso alla fase documentale, quindi un controllo documentale da remoto. La pubblica amministrazione dalla scrivania potrà fare dei controlli ed evitare di far perdere una mattinata all'impresa a controllare i documenti. Potrà farlo direttamente a casa sua liberando tempo e risorse per i controlli che sono a nostro modo di vedere molto più importanti, quelli sul processo produttivo, che sono quelli che poi visti i casi in Lombardia anche degli ultimi mesi, sono quelli che magari mettono a repentaglio se non utilizzati correttamente la salute e la sicurezza e dei lavoratori ma anche dei cittadini che vivono lo stesso territorio. Quindi sicuramente va bene la sburocratizzazione, migliorando i controlli siamo anche in grado di dire all'impresa lavora, non ti preoccupare, fai tutto senza lacci o laccioli che ti frenino, ti diamo noi una lista, una checklist sulle cose che devi fare poi però rispondi a dei controlli severi e seri in campo. Quindi questo permetterà anche, e noi l'abbiamo richiamato più volte nel progetto di legge anche un'attenzione e un rispetto di quello che è l'ambiente, di quello che è la salute e di quello che è la sicurezza dei cittadini perché è importante fare impresa e altrettanto importante il concetto che l'impresa deve essere sostenibile e deve relazionarsi, deve avere una responsabilità sociale, elemento richiamato più volte questa mattina nei confronti del territorio che la ospita perché non dimentichiamoci che un'impresa è ospite di un territorio, con quel territorio deve avere delle relazioni sociali e con i lavoratori che è in grado di richiamare e anche nel rispetto dei cittadini che condividono con l'impresa quel territorio. Elemento anche più importante che era nel nostro programma elettorale che è comunque innovativo, non sarà la risoluzione di tutti i problemi è quello legato alla camera di compensazione o alla moneta complementare che non deve diventare nessuna moneta con nessuna effigie, deve diventare uno strumento, un elemento utile o uno degli strumenti, elementi utili per dare un attimo nuovo credito all'impresa. Abbiamo avuto diversi incontri con alcune associazioni, alcuni consorzi che si occupano di camere di compensazione in regione Lombardia e abbiamo visto che sono elementi davvero innovativi che già esistono in altre realtà del nostro territorio nazionale, in altre realtà a livello internazionale, leggevo giusto stamattina sul giornale che ad esempio in Gran Bretagna Ebay utilizzerà il bitcoin per le transazioni tra privati, quindi è un elemento di innovazione, altri paesi già lo utilizzano, lo utilizzano fra le imprese, oggi leggevo questa innovazione addirittura all'utilizzo in parte tra privati, quindi secondo noi è un elemento interessante e non vogliamo fare né demagogia né nulla, è davvero un elemento che va messo sul tavolo con semplicità, va affrontato con serenità senza la paura che sia strumentalizzato o che si possa pensare alla moneta lombarda o all'effigie di qualsivoglia politico o statista lombardo. Quindi per noi è importante questo, sono importanti anche gli elementi che richiamano all'aggregazione delle imprese, perché noi sappiamo che Regione Lombardia è caratterizzata soprattutto da piccole e piccolissime imprese che hanno delle peculiarità e delle professionalità elevatissime, quindi come la vediamo noi è che queste imprese devono rimanere tali, devono avere la loro indipendenza, perché gli imprenditori e il tessuto imprenditoriale lombardo è strutturato in questo modo ormai da tempo, ma devono anche essere in grado di fare sistema su quello che gli interessa e per l'internazionalizzazione e per la partecipazione a missioni e per elementi che li possono caratterizzare, unire e creare delle filiere interessanti e attrattive sia quando si va all'estero sia quando si portano qua le nostre imprese. Certo è un ramarico poi vedere, leggevo stamattina la lettera di un vice sindaco, questo nostro progetto di legge va verso l'internazionalizzazione delle imprese, come dicevo prima, leggo un vice sindaco, lo Stato, il Ministero taglia i fondi alla scuola e una scuola è costretta a tagliare a metà un corso d'inglese, penso che la formazione, l'ha detto anche il collega Girelli prima, è un elemento fondamentale nella crescita del tessuto economico imprenditoriale lombardo. Se noi vediamo poi dallo Stato centrale e in parte anche da Regione Lombardia, dei tagli a quella che è la scuola pubblica, quella che è la formazione delle nuove leve del futuro che saranno in grado di investire con le proprie capacità professionali e personali nel nuovo tessuto economico lombardo e quindi creare davvero attrattività e creare un valore aggiunto al nostro territorio e alla nostra economia, ecco penso che questi segnali vadano nella direzione opposta, quindi noi possiamo impegnarci a fare le leggi migliori nella speranza e nella certezza che la Giunta metterà in atto degli strumenti funzionali e poi però abbiamo tutta la parte legata alla formazione che è davvero il futuro della nostra impresa e del nostro territorio che vede dei grossi tagli e delle dubbie ristrutturazioni. Quindi assolutamente noi siamo favorevoli a questo progetto di legge, ripeto come esordito, freniamo i facili entusiasmi e diamo correttamente alle imprese che hanno delle aspettative nei nostri confronti e nei confronti di questo progetto di legge la misura che questo progetto di legge riporta, quindi in parte le riforme sugli strumenti, in parte le riforme sulla burocrazia ma manca poi tutta una fase attuativa e noi siamo a disposizione per collaborare nei prossimi mesi per mettere in campo tutte quelle azioni concrete che serviranno per dare supporto al nostro sistema economico e alle nostre imprese in Lombardia. Mi permetto anche in questa fase di presentare gli ordini del giorno che ho sottoscritto, sono due ordini del giorno che più o meno vanno nella stessa direzione, uno è legato al telelavoro perché il telelavoro del futuro è quello che permetterà il risparmio di territorio, il risparmio di inquinamento e permetterà alle persone su certe tipologie di lavoro, soprattutto nel terziario ma non solo, di lavorare da casa e quindi conciliare il tempo tra lavoro e famiglia in modo molto più semplice, allo stesso modo evitare code, ingorghi, la necessità di nuove autostrade, di nuovo cemento sul territorio e quindi per noi questo progetto di legge deve vedere anche quest'ordine del giorno legato, dobbiamo essere in grado magari nei bandi di dare delle premialità, degli incentivi a chi utilizza questo strumento. Allo stesso modo una particolare attenzione a quella che è l'economia di montagna, sono stato questo fine settimana in Valcamonica ma io vengo da quelle zone e purtroppo le zone vallive si stanno spopolando, è un peccato perché davvero poi vediamo Milano piena di ingorghi e delle valli che sono le zone naturalistiche, paesaggistiche e posti dove vivere che sono eccezionali e incredibili. Attraverso lo strumento del telelavoro ma anche attraverso l'incentivo alle aziende che producono valore aggiunto su quei territori, Regione Lombardia deve essere in grado di dare una risposta e di avere una particolare attenzione nei confronti di queste realtà produttive. Quindi questi sono i miei due ordini del giorno e io spero che saranno accolti da tutta l'Aula perché vanno davvero nell'ordine del buonsenso e nell'ordine del rispetto dei territori che non sono solo Milano e che sono tutti quelli periferici della Lombardia e nel rispetto di una tipologia del lavoro che in altri stati ormai occupa percentuali elevate del totale degli occupati, in Lombardia e in Italia sono ancora troppo basse. Grazie. 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 Grazie.